Si è insediato ieri in Duomo e questa sera è ospite dei nostri studi, Monsignor Dario Olivero, neovescovo di Pinerolo. Buonasera. Come stemma episcopale ha scelto la mano di un seminatore, 12 stelle e un castello con 4 torri. Cosa ha voluto significare? Vuole essere un po' la mia fotografia, mia di adesso e di quel che vorrei essere. Il seminatore sono di famiglia contadina, le stelle e il mio nome deriva da desiderio, desidera, mi mancano le stelle, il sentimento dei marinai quando arrivano le nuvole non si vedevano più le stelle, abbiamo bisogno di stelle, abbiamo bisogno di sogni per camminare e il castello sono 4 torri di Fossano. Rifacendo il giro credo in un Dio che è lui, il buon seminatore, appartengo alla Chiesa Cattolica, ai 12 stelle degli Apostoli e lavoro per il mondo. Rifacendo ancora al giro i desideri. Io spero di essere un buon seminatore, davvero come vescovo, spero di indicare alla gente, alle persone la stella giusta e spero di portare tutti alla casa del padre. Guiderà per 20 anni una diocesi unica in Italia perché lei rappresenterà la Chiesa Cattolica nel cuore delle valli valdesi. Il rapporto con il culto valdese è sempre stato ottimo, ieri nel giorno del suo insediamento c'era il moderatore Bernardini e proseguirà, immaginiamo, questo rapporto. Sicuramente i miei predecessori, Giacchetti e Bernardi hanno fatto davvero cose grandi, pionieristiche e io spero di essere capaci a continuare partendo da un principio. Le differenze sono una fortuna, le differenze sono una fortuna. Lascia Fossano, sua diocesi di origine, sua città da sempre, immaginiamo, lascia Fossano con un po' di malinconia. Certo, lascio Fossano con malinconia perché sono stato 30 anni e dunque lascio tanti volti, tante storie, tanti. Lascio anche strade che si erano appena abbozzate sul terreno dell'arte, le mezz'ora di bellezza, sul terreno della musica, sul terreno dello sport, i sogni di Santiago. Ma lascio anche dei sogni che restano lì, per esempio la realizzazione di un hospice, spero che questo avvenga, e una trattoria letteraria che era un sogno che portavo in cuore, chi lo sa. A proposito dei sogni, ieri ha detto sogno una chiesa per i giovani, sarà questo l'impegno più forte per Pinerolo? Sicuramente questo sarà una delle priorità perché sono davvero convinto che una chiesa che non è in grado di parlare ai giovani è una chiesa che non è in grado di parlare a nessuno. I giovani sono sicuramente un termometro del nostro essere chiesa e dunque sì, i giovani sì. Bene, allora grazie al neovescovo di Pinerolo, Monsignor Olivero e buon lavoro. Grazie molte. Noi proseguiamo il telegiornale.